Si rialza nuovamente il numero dei positivi in provincia ed in città, sono 142 infatti a Caltanissetta i nuovi contagiati, per un totale di 714 pazienti positivi in tutta la provincia. I ricoverati in malattie infettive sono 66 di poco in più rispetto ai giorni precedenti e rimane invece stabile quello di terapia intensiva. Sono in tutto quasi 10.000 positivi in provincia. Intanto della riunione settimaniale con il prefetto ai vertici dell'Aspe è stato annunciato lo screening nelle scuole. A campione 500 tamponi in tutte le scuole della provincia. Sono tamponi salivari adatti ai bambini.